mcdonald di un solo colore clienti dovete assolutamente scegliere il mcdonald verde perchè premendo questo bottone rosso avrete una sorpresa se scegliete il mcdonald giallo avrete in omaggio dei soldi dovete scegliere il mcdonald rosso perchè perchè si invece se sceglierete il mcdonald viola potrete ricevere il nuovissimo libro di nim e matti nim e matti emergenza colori che potrete preordinare dal 12 settembre direttamente su amazon ma come ha fatto ad averlo prima di me lo voglio lo voglio benvenuti al mcdonald giallo benvenuti cosa volete ordinare allora che prendiamo allora io voglio una bibita gialla io ho un panino giallo e ovviamente i soldi e per me un po' di nuove io ho una bibita per favore ed ecco la bibita ci sono anch'io il mcdonald rosso guardate quanto è bello il mio ecco qua grazie e poi il colpo si è il panino più bello del mondo viva il mcdonald giallo di ninna io voglio un happy meal viola e per te anch'io voglio un happy meal viola ok ma io ora vorrei sapere qual è la sorpresa oh ok allora premete il pulsante rosso wow ma è bellissimo lo voglio anch'io lui è il mio assistente questo robottino sarà qui per voi durante tutta la giornata dov'è il libro? eccolo qui grazie anch'io voglio un libro anch'io voglio un libro eeeh purtroppo li ho finiti però puoi trovarli su amazon dal 12 di settembre oh uffa e vabbè l'ordino subito ci sono ho un'idea ragazzi per ogni panino che ordinerete al mcdonald rosso io ve ne regalerò un altro sì due panini al prezzo di uno bene bene Robby credi davvero di essere più forte dei nostri mcdonald? allora facciamo così chi riempie per primo il barattolo con le monete d'oro sarà il mcdonald vincitore e tutti gli altri dovranno chiudere quindi ne rimarrà solo uno matti un barattolo piccolo come questo il mio mcdonald lo riempirai in un attimo beh allora ti consiglio di iniziare a trovare qualche cliente ciao una nuova giornata è iniziata e se verrete dal mcdonald verde il mio robotino vi consegnerà direttamente il cibo questo è il mcdonald più tecnologico al mondo ma è bellissimo e questo ci porta i minuti direttamente al tavolo? sì è veramente il tuo panino no intanto sceglieremo il tuo mc di sicuro nei miei epimini gialli c'è una cosa segretissima io spero ci siano altri soldi vuoi diventare ricchissimo mangiando panini grazie non si può sapere cosa c'è dentro no è una sorpresa a me piacciono le sorprese ecco che ti lascio pure una moneta di magia oh grazie che posso avere due? sì no solo uno con quelle poche monete solo uno ciao 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 robottino è fantastico ciao robottino è un'ottima aiutante grazie per le monete ma non ci posso credere neanche un cliente è venuto nel mio mcdonald così non riempiremo mai il nostro barattolo di monete d'oro così non va bene devo assolutamente inventarmi qualcosa oppure Mattia e Ninna vinceranno io sono davvero curiosa sbrigiamoci allora sembra che la sorpresa del tuo epimillo sia davvero bella molto divertente sì ma perché stanno ridendo tutti? cosa c'è? beh non posso dirtelo una cosa segreta dai voglio saperlo torna nel tuo mcdonald verde va bene ehi 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 Ninna sta avendo molto successo con quegli epimillo dobbiamo capire che sorpresa ha messo dentro hai un piano Matti non lo so però dobbiamo assolutamente sbrigarci perché se no il barattolo di Ninna si riempirà grazie a quella sorpresa la mia epimillo ok gettone la mia epimillo per favore sì eccolo grazie è uno anche per me? sì epimillo gettone ecco qua grazie quanti gettoni salve salve è un mcdonald questo? sì è giallo è una sorpresa nell'epimillo è una sorpresa segreta e vorrei uno allora certo gettone due no vorrei un epimillo non gettoni sì prima deve darmi il gettone d'oro però non gettone epimillo ma cosa sto facendo? così rovinerà tutto deve dargli quei gettoni se no non possiamo capire cosa c'è dentro quell'epimillo gettone gettone epimillo gettone e va bene ecco a te due gettoni grazie 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 ecco qua l'epimillo con la rosa segreta dentro spero che questa cosa valga i due gettoni sì certo che tipo strano Robby ce l'hai nata? sì ho preso l'epimillo puoi anche parlare normalmente ora come di sì ragazzi ho preso l'epimillo sì ma dobbiamo vedere cosa c'è dentro è il mio apri quest'epimillo per favore l'ho pagato due monete d'oro quindi è il mio epimillo ok Robby allora questo è il tuo epimillo e potresti dirci ma perché ridi? ma perché stai ridendo? ma se for sapere Robby minna ha trovato una tua foto così ridicola ci posso credere minna si è presa a gioco di me per vendere più panini no questo non lo posso accettare avrò la mia vendetta spostati per favore mamma mia quella foto faceva davvero troppo ridere salve cosa vuole ordinare? salve lei è nina del mcdonald giallo? sì bene io sono l'ispettore dell'igiene e devo controllare che non ci sono insetti pericolosi insetti pericolosi? ma si rende conto con chi sta parlando? qua non ci sono insetti pericolosi beh questo lo lasci dire a me posso controllare? no come non posso controllare? dobbiamo fare una multa allora dov'è il mio dato? no 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 va bene può controllare allora sarà meglio così vado a cercare questo insetto pericolosissimo signorina ninna signorina ninna ho trovato un insetto pericolosissimo dobbiamo far chiudere tutto quanto qui ma com'è possibile? un ragno? sì ed è più pericoloso che esistono al mondo è terribile davvero terribile dobbiamo far chiudere tutto quanto vedi via buonissimo pippo grazie mattino ottimo lavoro non farti scoprire ora eh no no assolutamente vado a rimettermi va bene? ok il mcdonald di ninna è stato chiuso quindi lei non è più un problema non c'è niente di nuovo è davvero io sempre le stesse cose ma no il mio panino è viola e dentro c'è una carne super pregiata dovete ancora provare il mio epimil verde dentro c'è l'insalata che fa bene alla salute da me potreste provare una bibita più succosa e rinfrescante che esiste in tutti gli altri mcdonald il mcdonald giallo ha riaperto venite signori ho i panini d'oro una grande novità ecco il panino d'oro grazie mille anch'io anch'io c'era prima io scusa sempre in mezzo stai jasmine ecco qua è lì dentro grazie 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 a lei grazie vabbè e con questo il mio barattolo è pieno di monete d'oro ciao amici questo mcdonald quando l'hai aperto? beh vediamo mezz'ora fa sì ma nessuno ti ha dato il permesso non dovevi aprirne un altro sì peccato che io ho scoperto che quell'ispettore dell'igiene era falso perché gli si toglievano anche i baffi lo sapevo tutta colpa di quei baffi e comunque ragazzi tranquilli ho una buona notizia cioè il mio barattolo è pieno quindi ho vinto cosa? è pieno? sì 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 è pienissimo e quindi questo vuol dire che i nostri mcdonald dovranno chiudere? esatto grazie il panino d'oro e grazie a questo che hai ottenuto tutte queste monete a quanto pare il mcdonald giallo è il mcdonald vincitore sììììììììììigì Grazie a tutti.